Buona giornata amici, oggi è giovedì 29 luglio 2021, è una bellissima giornata e noi la cominciamo leggendo i giornali come sempre a partire dal resto del carlino e dal corriere adriatico, vi diremo quali sono le notizie del giorno ma prima passiamo al santo del giorno e al meteo, oggi è Santa Marta, Santa Marta è la sorella di San Lazzaro e di Maria, abitava in una località non lontano a Gerusalemme, fu una delle prime a credere nel Signore e a ospitare Gesù nella sua casa. Vediamo ora, facciamo tutti gli auguri a chi si chiama Marta insomma, che è un nome piuttosto diffuso. Ed ora passiamo alle notizie del tempo, il tempo è solleggiato, lo vediamo sulla cartina, è solleggiato su tutte le marche con temperature massime che si aggiuriranno sui 35-36 gradi nelle aree dell'entroterra. I venti sono a regime di brezza termica, sulle coste tireranno venti con media potenza da nord-ovest e sull'interno di media potenza, debole potenza anche da sud-ovest. La temperatura però è in calo rispetto a quella di ieri ma appena appena leggermente. Ed ora facciamo una nuova conoscenza. Andiamo a Numana per conoscere Luca Paolillo che è il concessionario di bagni Taunus. Buongiorno Luca. Ci sente? Sì, sì, benissimo. Ah, benissimo. Ecco, se alza un pochino il telefono possiamo vederla. Ecco, benissimo. Taunus, com'è questo nome Luca? Allora, Taunus deriva da una collina a Francoforte, ha importato il nome un austriaco per esattezza che ha costruito in una nostra collina qui una riproduzione di questa collina che c'è a Francoforte, costruendo delle villette. Adesso è diventato un villaggio enorme, ci sono 800 villette, poi è nata la spiaggia con lo stesso nome che ospitava solo i clienti di questo villaggio. Adesso è diventata una spiaggia, tutti gli effetti come le altre, è rimasto solo il nome, diciamo. Quindi ho capito bene, è una collina in Germania? Esattamente, a Francoforte, esattamente. Quindi c'è un rapporto stretto tra i bagni Taunus e i tedeschi, insomma. Ne ospita parecchi? Certamente, certamente. Sì, ne ospitavamo tantissimi, adesso purtroppo sono un po' diminuiti a causa Covid. Sì, comunque ne abbiamo tanti, abbiamo tanti anche proprietari di villi al Taunus che li ospitiamo qui in spiaggia. Ho capito. Vedo che il cielo è azzurrissimo, quindi oggi è una bella giornata. Tempo stupendo oggi, tempo stupendo. Il mare è perfetto, quindi aspettiamo solo i clienti. Ci parli un attimo della sua, brevemente ovviamente, ci parli un attimo della sua concessione. La nostra concessione ha un 52-53 anni e praticamente, come dicevo, è nata insieme al villaggio Taunus. Inizialmente ospitavamo solo e esclusivamente clienti di questo villaggio. Adesso da una trentina d'anni, diciamo, abbiamo allargato gli orizzonti, possiamo ospitare tutti, ma prevalentemente chiaramente i nostri clienti alloggiano al Taunus, sia con casi in affitto e sia con casi di proprietà. Benissimo Luca, la ringrazio per questo primo incontro, poi noi ci risentiamo domani e parleremo ancora del mare e della spiaggia. Grazie, arrivederci. Buona giornata, grazie a voi, arrivederci. Passiamo ora alle notizie sui giornali, a partire oggi dal Corriere Adriatico. Ma la notizia del giorno, che viene pubblicata anche dal resto del Carlino, è quella della rottura dell'acquedotto, che ha fatto sì che Pesaro rimanesse per diverse ore senza acqua nella giornata di ieri. Vediamo il titolo che appare sul Corriere, senza acqua nei giorni dell'AFA, proprio nei giorni dell'AFA. L'improvvisa rottura della condotta a Cucurano ha lasciato a secco l'intero territorio comunale. Una task force della protezione civile per far fronte ai rifornimenti, marche multiservizi al lavoro per la ripresa idrica nella notte. E sappiamo che Pesaro viene rifornita molto con l'acqua del Metauro, che arriva nel capoluogo attraverso una conduttura che attraversa, appunto, che parte da Cucurano e attraversa il territorio fino a Pesaro, appunto. Ieri si è rotta in diversi punti. Poi vediamo la notizia all'interno. Intanto vi dico quello che la prima pagina riassume questa mattina. Abbiamo il Green Pass in fiera, c'è una prova d'accordo con gli ambulanti. E poi a Fano ha rapinato in centro un uomo di Chiara Valle, è stato arrestato il giovane ladro. E poi a Pesaro ancora abusi dal patrigno. L'accusa chiede una condanna a otto anni. Sempre a Fano, lo yacht si fa bello. Poi la crociera in Croazia. Timone Group presenta una nuova barca, che è veramente un splendido appartamento che galleggia sull'acqua. Veniamo subito alle notizie dell'interno. A partire però dal Covid sulla situazione sulla regione Marche, il raddoppio dei positivi. Ebbene, purtroppo la pandemia è sempre presente e fa i suoi effetti. Un sussulto anche dei ricoveri. Da oggi, per cercare di vaccinare il più possibile, viaggeranno anche i camper nei paesi. Si sale così a quota 162 nuovi contagi, con un più 4 di pazienti in area medica. Stabili le rianimazioni. La vaccinazione itinerante, quella con i camper, ieri ha fatto la prima prova a Pieve Torina. L'area vasta 3 inaugura il percorso a Visso. E vediamo qualche dato pubblicato nella tabella dal Corriere Adriatico. Vediamo che, per quanto riguarda il totale delle vaccinazioni, nelle Marche siamo a 565.346, oltre mezzo milione. Ad Ascoli sono 238, 599. A Fermo 181, 672. A Macerata 305, 777. A Pesaro 388, 559. E la provincia di Pesaro è la seconda col numero delle vaccinazioni dopo quella di Ancona. Più effetti collaterali che benefici dal vaccino è una tesi politica. Non deve passare questo messaggio. Lo dice l'infettivologo Tavio. Chi lo sostiene ne assume la responsabilità. è veramente un dibattito politico, quello che si protrae sui giornali da tempo, quello degli effetti o meno del vaccino in merito alla immunizzazione per quanto riguarda la pandemia. E cosa dice il professor Tavio? Dice che il fatto che si possa contrarre il virus anche da vaccinati è una cosa nota fin dall'inizio ed è stato confermato dai dati maturati su milioni di casi. Chi è vaccinato può contrarre il virus, andare in ospedale, finire in terapia intensiva e anche morire, lo dichiara sempre l'infettivologo. Ma la conferma non diminuisce in nulla semmai rinforza le tesi pro vaccino perché questo avviene in una percentuale molto bassa. Insomma, è una questione di percentuali. Molti guariscono, pochi si ammalano. Però quei pochi sfortunati, però la situazione per loro non è certo gradevole. Lasciamo qui questo dilemma perché altrimenti ci porterebbe lontano. Arsi inizia la caccia al manager della programmazione sanitaria. Dopo grinta all'area vasta 4 avviate le procedure per la successione della difuria. La richiesta specifica, almeno 5 anni di esperienza, in qualifiche dirigenziali. È il nuovo corso, questo della sanità regionale. E veniamo a Pesaro a parlare subito dell'acquedotto. Ormai lo chiamano ancora l'acquerotto, come si chiamava ormai 30 anni fa, dopo che tutte le tubazioni sono state rinnovate. Ma ancora una volta ci sono stati guai. La città era secco nei giorni dell'AFA. Si rompe la conduttura idrica, che serve quasi 100.000 abitanti. C'è un gradale ritorno alla piena normalità solo di notte. Nel piano di emergenza del Comune, la Multiservizi e il Centro Operativo hanno individuato sei punti dislocati in vari quartieri per consentire ai pesaresi e ai turisti l'approvvigionamento idrico di acqua potabile, a cui si sono aggiunti poi altri tre punti per il rifornimento di questa sostanza che è indispensabile. Il via vai dei cittadini al punto allestito in via Lombardia ieri è stato continuo, tuttavia ordinato. Altri punti sono stati nei quartieri Porto, Pantano, Villa San Martino, Vismara, Muraglia, fino a Borgo Santa Maria. L'Arzilla è rimasto attivo fino a tardi per garantire il rifornimento delle scorte. Il primo pensiero è stato però per l'ospedale, perché anche per l'ospedale rimanere senza acqua era un problema non poco, non trascurabile, insomma. Una serie di concause hanno portato al guasto. I tecnici di Marche Multiservizi sono al lavoro senza sosta. La rottura profonda è stata individuata nel sottosuolo della frazione di Cucurano e interessa complessivamente una conduttura che, come ricorda Mauro Tiviroli, che è l'amministratore delegato di Marche Multiservizi, paga lo scotto della sua vetustà, nonostante i continui interventi che si sono susseguiti negli ultimi anni da una stagione all'altra e tutto su una lunghezza di 27 chilometri. Ora sembra comunque che il problema sia stato risolto e l'acqua è tornata a sgorgare dai rubinetti. L'altro tema in discussione è quello del Green Pass. Green Pass in busta paga un bonus per i dipendenti. Pensate, questa è la decisione di un imprenditore illuminato. La decisione è dell'azienda pergolese Noctis. Entrerà in vigore da lunedì prossimo. è un riconoscimento di 50 euro al personale che avrà completato il ciclo vaccinale. Qual è il miglior incentivo per far sì che la gente si vaccini che portare in busta paga un bonus da 50 euro? Veramente, credo che con questa soluzione le persone vaccinate aumenteranno. Non so quanti operai ci sono. 150 lavoratori alla Noctis di Pergola. E quindi credo che tutti approfitteranno di questa occasione. Canon e light e più controlli. Un patto per il passi in fiera. Primo confronto tra comune e ambulanti per l'organizzazione della San Nicola. L'associazione Anva Confesercenti è pronta a chiedere all'amministrazione comunale e a Pesaro Parcheggi una riduzione del canone di occupazione del suolo pubblico altrimenti a carico degli ambulanti. Insomma, dicono sì al Green Pass a patto che si paghi di meno l'occupazione del suolo pubblico. Comunque la fiera di San Nicola sarà quest'anno una edizione ridotta nel numero degli espositori con alcune categorie merceologiche ancora in forse. Niente spettacoli itineranti o altro ma il perimetro e le vie di accesso e in uscita interessate dalla manifestazione restano sempre le stesse. da Viale Trieste a Piazza D'Annunzio fino a Villa Marina. E c'è incastonato nella pagina di Pesaro anche un articolo che riguarda Fano. L'assessore Lucarelli è netto, parla sempre del Green Pass. Il certificato diventa inevitabile se la gente non si vaccina. E di chi è la colpa del provvedimento che il governo è emanato? Secondo Lucarelli è ovviamente di coloro che non si sono vaccinati. E quindi anche questi determinano una crisi, continuano a peggiorare insomma la crisi dell'economia, in modo particolare quella del commercio. perché il governo è costretto a prendere provvedimenti e quindi ne subiscono le conseguenze anche gli operatori. Veniamo alla cronaca. Leggiamo Ragazzina abusata dal patrigno. Il PM chiede una condanna a otto anni. La violenza sarebbe andata avanti per lungo tempo. Il cinquantenne è stato arrestato lo scorso febbraio. Era convivente con la madre di questa ragazzina da una decina d'anni. Poi le sue attenzioni sono spostate dalla compagna alla figlia di questo ed ora andrà in tribunale per così avere la sua sentenza. Poi abbiamo un'altra notizia che riguarda la violenza sulle donne. Le mie nozze da incubo, donna ricostruisce davanti al giudice il matrimonio con il marito manesco. Il caso interessa un 53enne di Tavuglia, difeso dall'avvocato Antonio Conberiati, accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni. Un rapporto di prevaricazione che andava avanti da tempo, ma che la moglie non aveva mai avuto il coraggio di denunciare. Soltanto dopo l'ultimo episodio di violenza la donna ha reagito. Erano insulti e litigi e quindi la signora ha trovato la forza di dire tutto ai carabinieri. Giriamo pagina e vediamo che il comune di Pesaro sta verificando le domande che sono giunte per ricevere lo sconto sulla Tari. Tari nelle quattro rate in arrivo, già previsto lo sconto in bolletta. Non ci saranno quindi i soldi che arriveranno dopo, ma arriveranno contemporaneamente con la bolletta. Ne parla l'assessore Pozzi. Il comune è al lavoro per verificare le 600 richieste di bonus. Provincia oculata per i fondi Covid. Il Governo assegna altri 2 milioni. In Consiglio si dimette Feduzzi. Al suo posto entra Sebastianelli. Comunque maggiori risorse alla provincia di Pesaro per il modo con cui ha trattato la vicenda del Covid. In Vallefoglia si prepara la festa e si premiano gli allunni più bravi. Una serata organizzata per gli studenti delle medie più meritevoli. Questa sera al parco di Padre Pio. A Urbino, Saltamartini, territori garantiti. Ruggeri, ancora non avete idee. In realtà qui si parla del dibattito che è avvenuto nella giornata di ieri in Consiglio regionale. Un dibattito tra la rappresentante del Movimento 5 Stelle, Marta Ruggeri, è l'assessore alla Sanità Filippo Saltamartini. Marta Ruggeri ha così accusato, per modo di dire ovviamente, Filippo Saltamartini di mancanza di idee. Saltamartini infatti si era limitato a riferire che sono ancora in corso a causa del ritardo per l'emergenza pandemica gli incontri con i sindaci e gli altri referenti territoriali sull'esito delle richieste della sanità. In modo particolare, nell'occhio del ciclone, è l'ospedale di Cagli, il Celli, che dovrà individuare la sua destinazione. Urbino Servizi subisce una perdita di 222 mila euro. La Presidente Volponi lo attribuisce di questo deficit alla pandemia, il calo dei ricavi anche nel 2021. Sulla pagina di Fano, l'articolo di apertura è dedicato alla rapina che si è svolta in centro, in via San Francesco, vicino alle tombe malattestiane a mezzanotte. I carabinieri però trovano subito il colpevole. È un nigeriano di 27 anni che, armato di un vetro di bottiglia, aveva preso il portafoglio ad un 62enne di Chiaravalle. E questo è un fatto un po' particolare, perché di rapine del genere nella città della Fortuna se ne sono viste molto, molto poche. Casi di risse, di violenze, sì, ci sono state, ma rapine in questo modo è una eccezione. L'uomo è stato rintracciato dopo un giorno vicino all'ingresso di un supermercato indicato dalla vittima come punto esatto della rapina. La coca nel pannolino patteggia un anno e dieci mesi. Si conclude il processo per il quarantenne che è stato soccorso in casa per una overdose. Il fatto è accaduto il 6 giugno scorso, quando fu lanciato un allarme perché l'uomo si era sentito male. Ad avvisare l'ambulanza erano stati un uomo e una donna che erano in casa con lui. L'uomo si era iniettato un mix di cocaina, eroina e un farmico a base di una sostanza, il benzo di azene pine e il rivotril, insomma un mix che lo stava mandando al creatore. E poi parliamo di nautica. La nautica con il vento in poppa, il covid non blocca gli yacht. Al porto turistico presentato a due sindaci, a Massimo Seri e a Massimo Olivetti, lo Sherpa 80X. E poi parliamo della festa del mare, celebrata anche con il concerto all'alba. È una festa del mare che comincerà sabato prossimo, ma si svolgerà essenzialmente nella giornata di domenica, secondo un calendario, un programma tradizionale che vede onorare coloro che hanno perso la loro vita in mare, ma ci saranno appuntamenti gastronomici, ci saranno appuntamenti religiosi, sarà la messa davanti al monumento dei caduti e ci sarà la tradizionale uscita in mare per il getto, il lancio della corona dall'oro tra le onde. Ed ora passiamo al resto del Carlino. Si parla in prima pagina, in prima pagina, eccolo, ai lavoratori vaccinati 50 euro in più, la notizia veramente è degna di essere evidenziata in prima pagina e poi ovviamente la notizia della rottura dell'acquedotto. Ma vi voglio segnalare anche due notizie di sport. Fede e Matteo è amore. Lei esce allo scoperto. Matteo è il suo allenatore ed è cugino di Remagno. Valentino deciderà entro due settimane quale sarà la sua vita futura. Apriamo la pagina, vi faccio vedere quella che il Carlino dedica alla rottura dell'acquedotto. Questa è la grossa tubatura che porta l'acqua dal metàvolo fino al capoluogo. Torna l'incubo dell'acqua rotto, la condotta principale scoppiata a Cocorano. E poi l'acqua o non c'è o è marrone. Del tutto a sé qualcuni quartieri, tanti disagi, corsa le autobotti. Il caso dell'Hotel Mare, la direttrice e i clienti mi chiedono quando tornerà. Fortuna che avevamo le scorte. Ho preso 20 litri, devo farmi la doccia. Ma le mille necessità dell'acqua vengono un po' così raccontate in diversi punti dei giornali. Gli addetti dicono non riusciamo a fare il caffè. Sono gli addetti del bar incontro a Villa San Martino. E poi Donatella Pasquini, titolare di una lavanderia, la lavatrice l'ho lasciata spenta al pomeriggio. Daniele Camilli, un parrucchiere, l'acqua arriva, è tutto nella norma. Questo problema non ha dato fastidio a nessuno. E Antonella, guaraccino, barista, ho preparato delle bacinelle d'acqua in caso non mi funzionasse il lavastoviglie. Insomma, sono le incombenze di tutti i giorni che dimostrano come l'acqua sia essenziale per la quotidianità. E intanto i Novax assediano la casa del sindaco. Ieri c'è stata una manifestazione a Pesaro contro le vaccinazioni e contro ovviamente il Green Pass. Il corteo aveva iniziato a manifestare alla palla di Pomodoro e poi è arrivato lungo il corso e ha manifestato sotto la casa di Ricci. La replica del primo cittadino vergogna, ha detto, siete squadristi. Da non credere il suo messaggio sui social, io non ci sono neanche e i miei figli sono apparsi increduli e spaventati. E poi l'articolo della ditta di Pergola che dà 50 euro in più sulla busta paga. di questo però abbiamo già parlato. E parliamo anche di scuole, DAD e Aule Pollaio. La DAD e la didastica a distanza tornano gli spettri con i vaccini e possiamo scacciarli. Parla così il preside del Marconi, Rossini, Riccardo Rossini. Un alto tasso di immunizzati ci permette di evitare le distanze minime. Intanto al Comune stanno già montando i prefabbricati per iniziare a settembre le lezioni allo scientifico. Ma sospendere i prof Novax non serve. Lo dice Lilli Gargamelli, la veterana della CGL. Rendere il siero obbligatorio? Ma sì, a patto, però che lo sia per tutti e non solo per i docenti. Ed ora passiamo alla festa che si prepara ad Urbino, anzi forse si è preparata per Giancarlo Selci e Rupoli Papalini, Presidente della Sindustria, onorato di rappresentarvi. È il sigillo dell'Ateneo di Urbino, una manifestazione, un riconoscimento di grande importanza per chi si è distinto per i suoi meriti imprenditoriali. Grande cerimonia nel cortile di Palazzo Ducale, prima del banchetto visita nella galleria. Testimone dovrebbe passare per la prima volta nella storia dell'Associazione ad una donna, Alessandra Barronciani. E questo è un addendum all'articolo di questa manifestazione che riguarda il prossimo futuro dell'Associazione degli Industriali. Fano le telecamere, incastrano il rappinatore, i carabinieri arrestano il 27enne nigeriano e vediamo che sul fronte della sicurezza l'assessore Barbara Brunori annuncia l'installazione di altre sette telecamere dopo quelle installate nei giardini della Rocca Malatestiana. Prevederemo, ha detto, altre telecamere ad Arsena Borghese e poi in Viale Cairoli e in tutte quelle aree che andremo a riqualificare. grazie a questo piano ci sarà un monitoraggio capillare di tutti i punti più sensibili della città. I lecci di Piazza Marcolini vincolati e secolari e quanto si legge nella relazione dell'agronoma comunale a proposito delle piante da abbattere. Intanto Dino Zacchilli boccia l'intero progetto. Dino Zacchilli è stato assessore all'urbanistica qualche anno fa. Ennesimo schianto sale la rabbia a Metauriglia in prognisi riservata a un motociclista di 19 anni finito con lo scooter contro un'auto. Un mese fa nello stesso tratto morì un 69enne. Un episodio tragico che ormai insomma non desta più anzi diciamo così meglio si ripete costantemente e non dovrebbe farlo. Passiamo subito allo sport e vediamo che la vis dal primo luglio ad oggi ha 19 nuovi giocatori organico completo pochi giorni dopo il ritiro lo leggiamo sul resto del Carlino mentre l'Alma Juventus è in attesa del pronunciamento di Gravina si deciderà entro il 2 agosto se Granata resteranno in terza serie c'è il rischio di un riesame di tutte le domande presentate. Bene questa era l'ultima notizia e qui concludiamo la nostra rassegna stampa io vi saluto vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento alle notizie della giornata nel notiziario di Fano TV questa sera alle ore 20 e 30 grazie per l'ascolto a risentirci grazie per l'ascolto